pietra montecorvino alza la coppa del vincitore della sfida a squadre di mezzogiorno in famiglia e passa il turno dopo una sfida all'ultimo punto con l'altro comune in gara a ponte di legno pietra vince la puntata con giovanni carpinelli che sotto la cabina schiaccia il pulsante esattamente al trentesimo secondo ribaltando il risultato in tutta la puntata i cittadini del piccolo borgodauno si erano ben difesi schierando in campo giovani cantanti ballerini abili conoscitori di cultura generale giochi di parole la maggior parte dei quali appartenenti all'associazione gioventù petraiola selezionati tramite provini questi hanno gareggiato in studio a fianco della subrette lori del santo mentre in paese molti di loro erano alle prese con i giochi di strada tanti sono stati anche i petraioli che hanno fatto conoscere a tutta l'italia le grandezze del paese mostrando e spiegando la storia del più importanti monumenti piatti tipici e lavori del posto macchine d'epoca nonché il caratteristico corteo storico che ogni anno si snoda tra le vie del borgo l'appuntamento è quindi a sabato prossimo con una nuova sfida contro un altro paese d'italia per aggiudicarsi in finale il tanto ambito scuola buss in palio